Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Con il cuore d'acciaio rende un commosso omaggio alla figlia scomparsa all'età di due anni. La perdita di un figlio è il dolore più grande nella vita di un genitore, ancora di più quando si tratta di una vita che cominciava a fiorire. Questa terribile circostanza rimarrà sempre segnata nella memoria e nel cuore dei genitori, che per tanti anni che trascorrono dall'addio hanno sempre presente nei loro cuori e ricordi il figlio defunto. In questo modo particolare è successo a una madre di Ul, che ha perso la figlia di due anni e mezzo. Ma nonostante la sua tristezza, la donna ha deciso di ricordarla parlando dell'anno fantastico che ha vissuto con lei e commemora la sua breve vita con un cuore d'acciaio. Julia Chambers ha perso sua figlia a causa di Zoe nel 2008, dopo un doloroso trapianto di cuore che le ha prolungato la vita. Questa bambina è nata con insufficienza cardiaca, quindi è stata tenuta collegata a ventilatori o a un berline Eart, una macchina che ha sostituito il lavoro del suo cuore. La sua prospettiva è cambiata nel 2007 quando Zoe è stata operata a cuore aperto. L'operazione ha significato un anno e due settimane in più di vita per la piccola prima di morire tra le braccia della madre. Abbiamo trascorso un anno fantastico con lei. Era in grado di fare cose che non aveva mai fatto prima. Fino al suo trapianto, aveva trascorso la maggior parte della sua vita collegata a un ventilatore, ha confessato la madre. Durante questo periodo Julia ha condiviso di più con Zoe, sapeva che il suo delicato stato di salute, ma non che la sua vita si sarebbe spenta così presto. Questo mese, dopo l'undicesimo anniversario della morte di Zoe, sua madre l'ha ricordata in un modo un po' speciale. Julia ha inciso il nome di sua figlia su una scultura stelaire che è stata installata a Meadowaldi Sheffield, in Inghilterra. Questa scultura dell'artista Steve Mehdi è alta 2,4 metri e ha un corpo di 1138 kg, dove verranno scritti un totale di 150.000 nomi. Dopo la morte di Zoe, Julia ha creato un gruppo Facebook di Graving Motors per mantenere viva l'eredità di sua figlia. Inoltre, il gruppo privato cerca di stabilire collegamenti con altre persone che hanno vissuto una situazione simile e, a sua volta, vengono organizzate attività di approfondimento per la campagna di donazione di organi. Julia insieme ad altre tre madri del suo gruppo ha deciso di viaggiare per assistere all'inaugurazione della scultura e per poterci incidere i nomi delle loro figlie. «Quando ho sentito parlare di Airt of Style, ho pensato che fosse fantastico e sapevamo che volevamo il nome di Zoe Lee», ha detto Julia. Maria Kebricka Schaaf, Susan Jackson e Yvonne Richardson hanno accompagnato Julia al centro commerciale il giorno in cui la scultura è stata svelata. Come Yvonne, queste donne hanno avuto figli che hanno subito un trapianto di cuore e conoscevano l'importanza di quel momento per la madre di Zoe. Scheris, il figlio di Yvonne Richardson, è stato operato poco prima della morte di Zoe. I bambini erano pazienti nello stesso ospedale, ma purtroppo Zoe non durò a lungo con il suo nuovo cuore. Attraverso il gruppo Facebook, Yvonne e Yvonne sono diventate buone amiche. Queste donne sostengono e combattono insieme per sensibilizzare sull'importanza della donazione di organi. Il figlio di Yvonne rimane vivo, anche se con i suoi giorni spezzati perché ha avuto conseguenze sulla sua salute a causa degli anni di cure che ha ricevuto. Con la sua storia Yvonne esemplifica l'amore di una madre. Nonostante gli anni trascorsi, il sorriso e l'amore di sua figlia Zoe rimane al suo fianco, e attraverso questo cuore d'acciaio ha trovato il modo perfetto per onorare la sua memoria. Inoltre, questa donna ha trovato una direzione per la sua vita con il lavoro instancabile che svolge per incoraggiare la donazione di organi. Ci sarà sempre un modo per rendere omaggio alla memoria di una persona cara a Yvonne e ha trovato un modo straordinario per farlo. Condividi questa nota e mostra ai tuoi amici la sua storia commovente. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.